Musica Neeeeee Bella raga qui Alphigame Benvenuti a un altro episodio di De... di Poo Di The Alphigame di Poo Di che facciamo Neeeeee Bella raga qui Alphigame Benvenuti a un altro episodio di Estate con Alphigame Quest'oggi ci troviamo su The Club Un gioco, uno sparatutto davvero molto Davvero niente male Uno dei sparatutto che però Diciamo è passato E' passato Diciamo Non molti lo conoscono E' un gioco un po' Poo vecchio però comunque E' un gioco davvero Io lo trovo interessante Giocarci E faremo un torneo Faremo un torneo Che non è la carriera Diciamo un torneo Però E' come se fosse una carriera Solo che sono delle E' un torneo Giocheremo contro gli altri Anche nella carriera si gioca Contro gli altri L'obiettivo è quello di battere gli altri Però nel torneo c'è C'è una sfida maggiore E vai Scegliamo Stoleware Stoleware Come Come scelta la mappa Ah ok Quello sbloccato Praticamente Se non fate nella modalità carriera Se non fate nella modalità carriera Quella mappa Non la potete fare Nella modalità torneo Allora Ci sono vari eventi In questo torneo In questo In questo evento Dobbiamo Andare Da punto A a punto B Cioè Dobbiamo arrivare Alla fine Solo che Arrivando a questa fine Dobbiamo Cercare di Totalizzare più Punti Possibili Come potete vedere Il primo A mil Ha fatto Un milione 202 punti E 464 Noi dobbiamo fare di meglio Per essere primi E noi ci proviamo Allora Come potete vedere È terza persona Si mira con i grilletti Si corre con R1 Ricalichi un quadrato E Lancia una granata Con Con cerchio Cerchio ecco Facciamo Questa sottospecie Di attacchi Di Giavolta E Non ci sono Ah ecco Ci sono questi teschi E noi andiamo Restruggere qua Non c'è Nient'altro Allora Qua diciamo Per ottenere un Buon punteggio È L'ideale Sarebbe quello Di fare una Buona combo Qua Non c'è Nulla di Di segreto Ho perso la combo Fa niente Ok Non c'è niente Qua Poi c'è qualcuno No Vai visto Ho perso la combo Vediamo se c'è Qualche teschio Non c'è niente Ok Proseguiamo Ricordiamo I teschi Possono dare Ottimi Conteggi Quindi Quindi Vale molto Colpirli Ecco Qua Ecco Di qua Non c'è altro Combo per 6 Combo Di 7 Di 8 Addirittura E la combo Si sta per esaurire Ok A posto Qua Una via più veloce Andiamoci Qua Uscidiamo Il biondino E Questo qua Veloce 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 Che si sta esaurire La combo Vabbè Non sto andando Poi così male C'è qualcuno Ha detto che mi attaccavo Cosa Lo sapevo Qua 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 Da dove è Che mi spano Eccolo E' venuto Ucciso C'è qualcuno Da dieta Che Ah Eh Dicevo io Adesso Non mi ricordo Dove Era la cosa La Da Non mi ricordo Dove era Il coso L'altro teschio Sì Vabbè Volevo scavalcare Invece No Non sono riuscito Ah Sì Ecco qua E Sono riuscito A prendere tutto E A meno Me ne vado Con una combo Di uno Niente di che Però No Finire con Con una buona combo E Buona cosa Fai niente Posso fare Potevo fare di meglio Fai niente Quindi andiamo La prossima sfida E terza Niente Non male Continuo Allora Questo salto il caricamento Perché E' La stessa cosa Di Di prima Allora Qua 900 E' stato il punteggio Più alto Premiamo statui Allora Allora Noi Stiamo Qua Perfetto Tutto dire Di fare così E di fare anche così E di fare anche così Sì Comun Beh posso dire Che un po' Me lo ricordo Me lo ricordo Perché ho già giocato Però Non per tutto Quindi Le ultime cose Le farò Le ultime Sfide Le farò un po' Male E si Modalità torneo Per Per Vincerla Devi la prima volta Giocare e perderla Non so cosa ho fatto All'indietro Però va bene così Oh Mimmo non muore C'è qualcuno Che Ho ucciso Terminator Perfetto Allì Oh Questo Finalmente è un'arma migliore Sì Migliore Si sta quasi per scaricare Quindi non è che E qua però Eh C'è un'area segreta Oh Come ho perso Non fa niente No È che Mi confondo Con i tasti Quindi Mi viene Spontan... Di Di Normage Ecco Ho finito le munizioni C'è Da fuck mo? Oh L'ho colpito Qua non c'era Un qual Ok Non so come Gli abberghi Gli raccolti I colpi Però va bene Qua L'unico modo Per vincere È quella di Andarcene via Con una buona combo Quindi Se magari muore Tipo Via Ok Combo di 5 Va bene Allora Perfetto L'ho fatto Completamente schifo Va bene Continuo Lo stesso Continuo Qua Ho Grazie.